Più volte denunciata dagli attivisti messinesi e frutto anche di interrogazioni in Parlamento Nazionale, la tendopole al Palanebbiolo chiuderà nelle prossime settimane e la decisione del nuovo prefetto Francesca Ferrandino, che ha ascoltato il grido d'allarme dopo l'apertura voluta dal Ministero degli Interni nel 2013, quando l'ondata di migranti in arrivo a Messina si era fatta molto numerosa rispetto agli anni passati. L'impianto sportivo e un campo da baseball tornerà a essere gestito dall'Università. Gli extracomunitari che erano presenti sono già stati trasferiti e da lunedì via alle operazioni di smantellamento. Le condizioni della tendopoli, sia in estate che d'inverno, erano proibitive e secondo quanto più volte denunciato mancavano i requisiti anche di una sufficiente ospitalità.